Abbiamo lanciato nei giorni scorsi come conftrasporto la proposta di prevedere il licenziamento per giusta causa qualora un conducente di mezzo pesante venga ritrovato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Crediamo che questa proposta sia nell'interesse della sicurezza di tutti gli utenti della strada e quindi lanciamo un appello al Parlamento e alle forze politiche perché laddove vi fosse la possibilità di introdurre modificazioni al testo appena approvato dalla Commissione Trasporti della Camera questo importante elemento possa essere inserito.